buongiorno conferenza stampa del campionato f1 mp relativa al gran premio di cina che si correrà lunedì 12 novembre alle 22 30 quest'oggi abbiamo con noi quattro piloti sicuri protagonisti del campionato in corso abbiamo con noi salvo de genius campione del mondo in carica abbiamo nio 735 nicola 331 e stay uve 32 benvenuti cominciamo questa conferenza stampa dando la parola al campione del mondo in carica salvo de genius salvo de genius prima domanda per lei allora complice un suo errore in australia e la grande prova di schumacher in bahrain lei si ritrova a meno 19 punti in classifica dal leader del mondiale ci chiediamo allora se il pilota forza india stia minando le sue certezze per quanto riguarda il bis del titolo mondiale cosa che aveva dichiarato a inizio stagione cosa ci può dire al riguardo ritrovarmi a 19 punti di distacco dopo solo due gare non era certamente nei miei programmi schumacher rappresenta sicuramente un avversario molto forte è più che minare le mie certezze io direi che rappresenta uno stimolo per continuare a migliorare in pista e allora salvo lei e il suo compagno di squadra dopo due gare siete appagliati nella classifica piloti questa è una cosa che lei si aspettava e inoltre le volevamo chiedere se pensa che dario sotto sotto covi il fatto di poter ribaltare le gerarchie all'interno della scuderia mercedes senza il mio errore in australia il nostro divario sarebbe stato sicuramente più ampio dario è un pilota molto caparbio e indubbiamente un compagno di squadra molto scomodo ma resto convinto che i risultati chiariranno che la prima guida in mercedes sono sempre io salvo domanda classica ma che ci sta tutta quale sono i suoi obiettivi per questo gran premio della cina la cina circuito che francamente non mi piace particolarmente considerando poi l'altra possibilità che venga a piovere il mio obiettivo per questo gran premio è quello di puntare al podio se poi sarà il gradino più alto tanto meglio passiamo ora la parola al pilota neo 735 allora neo prima domanda per lei lei dopo alcuni anni ad alto livello sembrava avere intrapreso una parabola discendente invece quest'anno sembra che lei sia tornato ai livelli di una volta quindi le volevamo chiedere se dopo diciamo questo inizio di campionato lei si sente la vera sorpresa del campionato f1 mp la vera sorpresa del campionato no non direi però ci stiamo comportando bene fatto due secondi posti australia e beren con la scudoria mi trovo il perfetto feeling gli altri anni non nascondo che sono stato un pochettino difficoltà avevo pensato anche di abbandonare invece quest'anno con questo 2018 sembra che le cose vadano meglio e cercheremo di farci rispettare nio ad inizio anno tutti i media puntavano su sberla come l'uomo forte della mclaren però dopo sole due gare lei ha distanziato il suo compagno di squadra di ben 16 punti ed è addirittura terzo nella classifica generale al pari punti a pari punti di salvo de genus che è il campione del mondo in carica quindi ci chiedevamo se nel team e col suo compagno di scuderia avete a questo punto già parlato di gerarchie e stabilito quale sono appunto all'interno della vostra squadra si contento del mio terzo posto a pari merito con salvo de genus campioni in carica che poi avuto qualche problema durante la gara in astralia quando riguarda l'ordine di scuderia non ce ne sono il pilota di punta mclaren non è massato nessuno di due qualora dovesse essere lui più veloce di me fare in modo di fargli da scudiero e farlo andare dove più lontano possibile allora neo ultima domanda per lei allora le chiedo il suo compagno di team sberla dopo l'astralia ha fatto delle dichiarazioni particolari le cito il virgolettato preferirei affrontare un viaggio con un terrorista imbottito di tritolo piuttosto che correre con certi piloti una dichiarazione un po pesante ecco noi ci chiedevamo se a lei aveva avuto modo di parlare con lui di questo argomento e chi secondo lei sono questi piloti che sono paragonabili a terroristi dell'isis non ho avuto modo di parlare ancora con il mio compagno di scuderia niente alle sue dichiarazioni del gran primo scorso in astralia non so a chi pilota si riferisse qualora ne avremmo modo di parlare gli chiederò e probabilmente vedere in pista a cosa si riferiva sappiamo bene che comunque smerla è questo è per questo gli vediamo bene allora passiamo la parola al pilota steglio 32 allora stefano prima domanda per lei allora l'inizio del campionato per lei non è stato dei migliori prima del bahrain lei aveva dichiarato che sakir è una delle sue piste top 3 ecco allora ci dice quali sono le altre due in modo tale da non far perdere troppi soldi di scommettitori che vogliono puntare su di lei grazie stefano seconda domanda per lei lei è arrivato in reno come sostituto di drunk pilota che l'anno scorso ha portato il team a grandissimi livelli dopo due gran premi sicuramente ci si aspettava di più da lei visto diciamo il blasone del team ecco volevamo sapere se questa cosa la sta mettendo un po sotto pressione visto anche i buoni risultati del suo compagno di scuderia fabbio angio che in bahrain ha fatto un grande esploat ma sinceramente non sento la pressione so che questi due risultati negativi che portano zero in casella ahimè mi hanno fatto scendere il morare sotto i piedi ma reagirò so già dove lavorare per migliorarmi è tutta una questione di testa di non di pressione ma di concentrazione quando la gara è stabile diciamo che le posizioni sono congelate calo l'attenzione e l'errore lo commetto oppure quando devo recuperare mi si chiude la vena e anche lì è facile commettere degli errori stefano terza e ultima domanda per lei allora lei è stato uno dei promotori del full manual a 360 gradi molti piloti hanno accettato con grande entusiasmo l'aver tolto la traiettoria mentre altri sono rimasti un po scottati dal cambio di regolamento ecco cosa si sente di dire a tal proposito ed eventualmente che consiglio darebbe a chi ancora fatica a digerire questo cambio di regolamento grazie beh mi dispiace per alcuni piloti si sono rimasti scottati però io questo lo vedo come un migliorarsi e nella vita bisogna sempre migliorarsi quindi era giusto fare questo step soprattutto è molto più bello ottenere i risultati così in questa maniera è molto più soddisfacente che avere un binario in terra da seguire non è cosa cosa posso consigliare semplicemente come nella vita di tutti i giorni quando ci sono dei cambiamenti cambiano anche le abitudini quindi è solo una questione di abitudine non mollare mai e combattere fino alla fine e poi questo cambiamento verrà assodato e non ci saranno più malumori secondo me questo è tutto grazie alla prossima ci si vede in pista ciao passiamo la parola ora al pilota nicola 331 allora nicola prima domanda per lei allora le chiedo decimo in australia ottavo in bahrain dopo questi due risultati dove pensa di poter arrivare in questo campionato ma sinceramente non lo so non sapevo cosa aspettarmi infatti sono veramente contento di aver fatto punti in entrambi le prime gare perché come primo avversario alla fine io ho me stesso e quindi niente sto imparando a il modo giusto per per allenare le piste per metterci meno a capire e avere un po più in fretta un passo decente per per stare dietro agli altri e speriamo in bene niente punto a essere almeno nella top 10 speriamo e seconda domanda per nicola allora nicola le chiedo l'alfa sauber per ora si regge solo sui punti da lei conquistati e il suo compagno di team queste prime due carie ha deluso quindi le chiedo se lei si aspettava di più dal suo compagno robison robie grande robie robie veramente un grande saggio soffre secondo me un po l'assenza della traiettoria ma si sta impegnando tantissimo e deve solo ancora abituarsi un po ad allenarsi con l'ottica che non c'è la traiettoria appunto senza senza considerando altre cose però secondo me arriva anche lui a essere forte in poco tempo e cioè mi piace averlo con un compagno di squadra già andiamo insieme discutiamo spesso e bello mi piace e allora nicola terza domanda per lei domanda un po per i rotocalchi di gossip le chiediamo se quello che si vocifera nel paddock è vero in pratica si dice che le sue prestazioni non proprio all'altezza siano condizionate da alcune sue frequentazioni le accuse che le fanno sono quelle di frequentare festini a base di donne alcol e droghe leggere e qualche suo collega ha anche insinuato che lei abbia le cosiddette chiappe chiacchierate che cosa si sente di dire a riguardo non sapevo di queste voci credo sia solo un'impressione sbagliata perché spesso nei parti in gruppo quando si ci si allena sono una persona euforica ma è tutto solo un'impressione sicuro sicuramente mentre la parte delle chiappe non so di cosa parli cioè ti direi no comment perché sai zizzaro non si capiscono tutti i termini queste terminologie così dettagliate mi spiace no comment e la conferenza stampa si chiude qui ringraziamo i piloti per la loro disponibilità e appuntamento al gran premio della cina lunedì 12 novembre alle 22 30 grazie 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 per fmp è tutto linea alla regia ciao